Salve a tutti i youtuber vicini e lontani. Oggi vi racconterò una storia, una storia di distruzione, risate e disperazione. Abiciraptor sei una faccia di merda. Quella testa di cazzo, mi ha allagato mezza città, non solo lo spok. O lo bannate o me ne vado dal server, vi avviso. Book It è invincibile. Siamo sicuri? Tutte le griffate di oggi sono false. Con questo plugin nessun griffer potrà entrare nel vostro server. Oh no! Abc! Ti ho bannato da 680.000 server! Come sei arrivato qui? Vedete? Il griffing è tutt'altro che morto. È solo in attesa di risorgere in tutto il suo splendore. Nell'attesa, oltre al griffing, questo canale ospita anche altre rubriche, come quella sui giochi con livelli casuali e quella su Planet Explorers. Gioco sandbox simile a Minecraft in cui, tra le altre cose, potrete creare anche armi e veicoli in maniera personalizzata. Ah! Poi c'è ancora, sì, dare fastidio agli altri per il proprio appagamento per me è un comportamento accettabile mi duro. Qualcosa in contrario. Accident Get. Deportato in Siberia.